Una buona serata e una buona domenica a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. È stata una settimana intensa, ripercorriamo dunque insieme i fatti più importanti. Voglio ringraziare i cittadini e tutte le persone che mi stanno aiutando e a cui dedico evidentemente questo risultato. Il suo ringraziamento va in primis ai cittadini. A loro Luigi Brugnaro dedica il secondo posto che si è guadagnato nel sondaggio annuale realizzato per il sole 24 ore sul gradimento degli amministratori locali. Di più, se si votasse oggi a sette mesi dalla sua elezione, Brugnaro guadagnerebbe l'8,8% di consensi sulle schede rispetto a quanto ottenuto alle elezioni. Lui è emozionato e soddisfatto, ma questo posto non lo considera solo suo. Ci sono veramente molte persone amici, funzionari e dipendenti anche del comune stesso che oggettivamente con grande generosità si stanno adoperando perché la città di Venezia, le città di Venezia, Marghera, Catene, Mestre, Zellarino, Lido, Perestrina, Murano, Burano, ci stiamo adoperando perché effettivamente questa città possa ricominciare a camminare con le proprie gambe. Secondo il primo cittadino il merito è la coerenza nei confronti dei cittadini. La gente oggi vuole cose concrete, vuole sentire coerenza, cioè se tu dici che vuoi fare delle cose e ti votano per quelle cose, la gente si attende, mi sembra anche il minimo della pena, che tu faccia queste cose o comunque vada verso quella direzione. Questa dovrebbe essere una caratteristica importante di tutte le persone per bene, quella deve essere coerenti. In Veneto un altro sindaco nella top ten è Massimo Bitonci alla guida del comune di Padova che occupa il sesto posto. Brugnaro è però la rivelazione dell'anno considerando anche la sua prima esperienza in politica. La situazione trovata a Venezia era disastrosa, bilancio in primis. Ecco perché secondo il sindaco il segreto di una buona amministrazione è non avere debiti di alcun genere. L'importante è costruire una vitalità alla città senza indebitarla, senza indebitare i giovani, senza indebitare i nipoti, senza indebitare le prossime generazioni. Non possiamo vivere a debito, dobbiamo liberarci di questi debiti, dobbiamo oltre che amministrare la città, secondo me come il buon padre di famiglia, dobbiamo pensare proprio alle cose minute, alle cose semplici. Guardate, credetemi, è un'esperienza incredibile da quanto problemi si trovano. Il vincitore della classifica è il sindaco di Lecce, Paolo Perrone. La ditta veneziana Sacaime è al centro di una nuova indagine delle fiamme gialle che in queste ore stanno effettuando diverse perquisizioni alla ricerca di presunte irregolarità nelle procedure per la realizzazione del cosiddetto minimose sul lago di Como. L'appalto da 12 milioni di euro per un sistema di paratie mobili simile a quello in costruzione nella laguna veneziana è lievitato in breve tempo a oltre 30 milioni. Le delucidazioni richieste la scorsa estate dall'autorità nazionale anticorruzione non sono state ritenute sufficienti dall'ente presieduto da Raffaele Cantone che ha deciso di coinvolgere la procura di Como in un'indagine più approfondita. I risultati dell'inchiesta non sono ancora noti ma le perquisizioni hanno già suscitato la reazione politica del Movimento 5 Stelle. Mose uguale tangenti. Infatti il sistema di paratie mobili usato per il Mose di Venezia è stato usato anche a Como e anche a Como pare ci sia stata corruzione e tangenti. Il coinvolgimento di soggetti veneti in questo ennesimo episodio annuncia Berti ci spinge ad avviare alcune iniziative in Consiglio regionale. Purtroppo vediamo che di nuovo sono coinvolte aziende veneziane ed è per questo che come Movimento 5 Stelle in Regione Veneto stiamo per proporre una proposta di legge anticorruzione per debellare definitivamente la corruzione e tutto il malaffare dalla politica veneta. Solo ricordando quello che è stato, guardando indietro per guardare avanti possiamo salvaguardare il tenore della nostra vita democratica oggi. E questo è il significato più importante che il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro attribuisce al giorno della memoria le cui celebrazioni a Venezia non dureranno solo 24 ore non si limiteranno alla cerimonia ufficiale. La cosa importante è anche il fatto della differenziazione culturale di tipo di arte. Ci sono eventi musicali, ci sono eventi teatrali ci sono eventi di testimonianza nelle scuole cioè l'offerta è variegata per permettere a tutti di riflettere anche a seconda della propria predisposizione uno può essere più interessato alla musica uno può essere più interessato ad ascoltare cioè cerchiamo di coinvolgere in tutte le maniere possibili per far riflettere. A Venezia più che di giorno della memoria forse si dovrebbe parlare di rassegna della memoria riflettono dalla comunità ebraica vista l'ampiezza del programma di questa ricorrenza che ricorda non solo il genocidio degli ebrei ma anche quello degli zingari e il sacrificio dei militari internati nei campi di concentramento. Quest'anno è particolarmente importante perché cade anche il cinquecentenario della nascita del ghetto. E' una cerimonia che intendiamo avverrà a marzo nella quale intendiamo avviare una riflessione proprio sui luoghi di chiusura che nel corso dei secoli hanno contraddistinto gli ebrei non c'è nulla da festeggiare ma soltanto una riflessione sui luoghi di costrizione che hanno riguardato in particolare gli ebrei. Il termine tecnico è norme per la realizzazione di edifici di culto è stata ribattezzata legge anti-moschee. Dopo le audizioni presenti cinque rappresentanti del mondo islamico alcuni valdesi e il portavoce della comunità hinduista la commissione urbanistica ha dato il via libera alla normativa che ora passa al vaglio del consiglio regionale. Un luogo di culto per essere aperto dovrà rispettare determinati standard la legge inoltre è retroattiva. Gli spazi da dedicare ad attività di tipo di culto o di carattere comunque religioso che sia formativo o che sia di professione religiosa possa avvenire solo in determinati spazi regolamentati poi dai singoli comuni in base al loro piano degli interventi al piano di assetto del territorio che hanno in approvazione. Quindi prevede anche, a seconda anche della tipologia di uso che ne vuoi fare, la presenza anche di adeguati parcheggi di standard adeguati. Le comunità islamiche hanno definito la nuova legge anticostituzionale. Non spetta alle associazioni islamiche decidere se è una legge costituzionale o incostituzionale a questo ci pensarà sicuramente qualcun altro. Il Movimento 5 Stelle parla di legge assurda e lancia una provocazione. Devono adattarsi e chiedono che abbiano tutti gli edifici, sia una norma che abbiano parcheggi adeguati per le persone che le frequentano. Allora la nostra domanda è col Santo di Padova cosa facciamo? Costruiamo i parcheggi sotterranei? Con la Chiesa di San Marco? E con tutte le chiese esistenti in Veneto? Allora queste sono delle norme che non hanno senso di esistere perché come è possibile dare una possibilità di costruire tutte le chiese da zero noi veramente non capiamo cosa stia facendo la maggioranza. Tre volte era partito, tre volte è tornato indietro. Ora la quarta pare essere quella buona perché finalmente Poste Italiane ha preso in carico il ricorso alla Corte di Cassazione di Renato Chisso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza a novembre aveva rigettato la sua richiesta di detenzione domiciliare. Il difensore dell'ex assessore regionale alle infrastrutture aveva sottolineato la stranezza della vicenda. Nelle scorse ore il dirigente amministrativo del Tribunale di Sorveglianza la dottoressa Piera Dallazuanna ha preso carta e penna per scrivere una lettera e dare la sua versione dei fatti rivelando anche un particolare curioso e clamoroso ovvero che se alla fine il ricorso è partito è stato solo perché la spesa è stata affrontata dai cancellieri stessi che hanno fatto una colletta. Quando un legale fa un appello contro un provvedimento lo fa direttamente all'ufficio che l'ha emesso e poi quest'ultimo a prendersi in carico tutta l'attività necessaria per spedirlo all'ufficio successivo in questo caso la Cassazione a Roma. In questo iter però all'apparenza semplice stando al racconto di Dallazuanna si possono inserire dei problemi inaspettati come per esempio il fatto che dal primo dicembre sia scaduta la convenzione tra il Ministero della Giustizia e le poste per la spedizione con raccomandata dei pacchi oltre i due chilogrammi proprio il caso del ricorso di Chisso che messo sulla bilancia pesava due chili e 600 grammi. Magari si fosse trattato di chili purtroppo si tratta di soldi si legge nel comunicato a firma della dirigente. Il fascicolo con gli atti è stato tempestivamente preparato dal Tribunale di Sorveglianza e consegnato all'ufficio postale ma da lì proprio perché mancava la differenza in termini di pagamento è sempre tornato indietro. Ladri di Elemosine in azione nella chiesa di Gesù Lavoratore a Marghera dove le cassette per le offerte sono state forzate dai gnoti. A denunciare il furto ai carabinieri il parroco Don Luca Biancafior La mia idea è che siano tossicodipendenti almeno così mi pare di poter dire e quindi voglio dire se da questo punto di vista si riapre una ferita che è presente ormai da tanto tempo in questo quartiere e in Marghera in generale credo di poter dire che è quello appunto della facilità di reperimento della sostanza stupefacente. Il furto dell'ammontare di non più di 150 euro secondo il parroco potrebbe essere stato commesso da alcuni extracomunitari sbandati che sostano spesso nelle vicinanze della chiesa. I problemi di questo quartiere sono noti e non possono essere risolti dalle sole forze dell'ordine che pure si danno da fare sostiene Don Luca si tratta di una questione soprattutto culturale da anni si parla di riqualificazione al di là però di qualche mano di intonaco sono molte le case che potrebbero già essere abitate per esempio in via rinascita ma che il comune tiene sfitte per motivi che non riesco a capire. Uno dei passi importanti per il comune potrebbe essere quello di individuare delle famiglie corrette perché spesso questo quartiere è stato un po' la discarica del comune di Venezia delle famiglie corrette e magari chi lo sa giovani o meno giovani questo sì non è un discriminante voglio dire che possano venire qui e riportare un po' di vitalità credo che la cosa importante sia quella di contagiare il male con il bene. Bisogna andare fino a oltre il semaforo dopo si attraversa si passa sui binari mi sembra 5 o 6 e poi dal 5 e 6 bisogna camminare tutto di là alla fine pensilina più in fondo c'è un altro passaggio per arrivare ai binari 8 se questa era la situazione alcuni mesi fa quando il signor Bauduzzi ha denunciato le difficoltà che incontra un disabile che deve prendere il treno alla stazione di Mestre questa è la situazione oggi è rimasto come circa un anno e mezzo fa due perché per andare a prendere i treni per un disabile è praticamente possibile sì per l'aiuto dei portabagagli ma con molte difficoltà infatti uno che è con la carrozzina elettrica deve fare circa un chilometro per prendere i treni tipo freccia rossa freccia bianca o freccia argento per poter accedere ai treni stessi se dunque un disabile è costretto a percorrere così tanta strada per accedere ai treni non diversa la situazione degli ascensori funziona solamente l'ascensore 1 parrebbe che fosse quasi terminato ma non certamente adesso l'ascensore 2 e ne mancano ancora due per poter accedere ai treni veloci e io trovo veramente vergognoso che una stazione come Mestre nodo ferroviario essenziale per i collegamenti per il nord Europa abbia ancora queste problematiche di qui l'appello al sindaco Brugnaro che si interessi direttamente lui per poter risolvere questo problema cioè un disabile sia in sedia normale che in sedia elettrica deve superare i binari con pioggia vento e con qualunque tempo climatico quindi non vedo il perché non si riesca a finire questa problematica insomma diffondere la conoscenza dei fatti storici che portarono all'annessione della Repubblica Veneta al Regno d'Italia per far riflettere i cittadini sulla loro reale volontà di fare ancora parte di questo Stato è l'obiettivo che il Comitato 1866 intende raggiungere per il quale è elaborato un programma di iniziative in occasione dei 150 anni della storica consultazione più che altro per andare ad analizzare fonti d'archivio gli archivi parrocchiali che sono un patrimonio immenso di notizie di quanto avvenne 150 anni fa ma soprattutto di fare cultura e rendere consapevole tutta la popolazione veneta e il popolo veneto di quanto avvenuto 150 anni fa senza intenti di chissà che natura ma proprio per fare una riscrittura della storia per come effettivamente avvennero quei fatti il programma che si conagna al plauso del presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti prevede incontri e dibattiti in occasione del Capodanno Veneto dal 27 febbraio al 6 marzo un ciclo di conferenze una serie di visite guidate per le scolaresche a Palazzo Ducale una celebrazione diffusa in tutte le città venete il 21 ottobre anniversario del plebiscito per appunto diffondere la conoscenza storica e per instillare una domanda che invece ha molto dell'attuale ovvero il principio di autodeterminazione esercitato 150 anni fa e ufficializzato nel trattato di pace di Vienna tra Austria e Italia potrebbe essere riapplicato oggi quindi facendo la stessa domanda ai veneti di oggi e aspettandosi una risposta che probabilmente sappiamo già il significato oltre 50 kg di marijuana contenuta in grossi sacchi di plastica e due arresti è l'esito della prima importante operazione antidroga dall'inizio dell'anno da parte della squadra mobile di Venezia a finire in manette un albanese 36enne residente a Mira e un suo connazionale di 31 anni residente a Vigo Novo sono stati arrestati due cittadini albanesi cui diciamo verrà contestata la detenzione di questo notevole quantitativo di droga al 36enne la polizia è arrivata seguendo il via vai sospetto nella sua abitazione due le perquisizioni effettuate a Mira le perquisizioni sono state effettuate in due abitazioni nella disponibilità di entrambi le persone arrestate lo sviluppo delle immediate attività investigative ci ha condotte anche in un capannone che era stato utilizzato proprio per verosimilmente per la produzione di questa droga gli albanesi entrambi con permesso di soggiorno sono stati bloccati uno dopo l'altro perché mentre gli agenti perquisivano casa e garage quando è entrato il secondo albanese è stato trovato con denaro contante una coppia delle chiavi dell'abitazione e del capannone in cui veniva coltivata la marijuana a Peraga di Vigunza nel Padovano le indagini continuano per capire quale fosse la destinazione della droga per quanto riguarda la destinazione verosimilmente potrebbe essere destinata al mercato veneziano però come diciamo in ogni attività e in ogni sequestra antidroga ovviamente questo è l'inizio di nuove attività investigative adesso stiamo vedendo se sarà domenica 7 martedì 9 ma comunque lo sciopero ci sarà lo sciopero è confermato la polizia locale di Venezia ha intenzione di incrociare le braccia durante il periodo più caldo dell'anno il carnevale e se arriverà la decisione del prefetto di precettare gli agenti andrà in scena comunque una protesta simbolica sicuramente qualcosa faremo in quella giornata sicuramente sì perché noi dobbiamo dare dei segnali a questa città qui sono state dette tante cose poi la realtà dei fatti è tutto in alto lo scontro con il sindaco continua i sindacati parlano di mancanza di rispetto da parte del primo cittadino Brugnaro dalla promessa di armare tutti gli agenti siamo arrivati alla monopattuglia precisa Ragno secondo voi secondo i cittadini è normale che tre mesi fa un sindaco un'amministrazione voglia armare tutti i lavoratori della polizia locale per la loro sicurezza e dopo qualche mese non ce l'ha fatta perché ci sono anche dei limiti di legge e quant'altro e poi dopo alcuni mesi li mette a lavorare da soli a dire che sono a vista d'occhio ma Piazza San Marco la conoscete? l'avete mai vista? quando c'è gente e anche senza gente qual è la vista d'occhio? sulla polemica legata al numero di rappresentanti sindacali all'interno del corpo di polizia locale Ragno dice quello che conta è il monte ore dei permessi se tu hai 300 ore che tu abbia un delegato sindacale o tu ne abbia 300 alla fine 300 ore è il tuo budget più di quello non puoi fare come una famiglia se ha 1000 euro e ha un figlio può spendere 1000 euro per un figlio se ha 1000 euro e ha 20 figli spende sempre 1000 euro siamo intervenuti per una situazione anomala che si era verificata nello stabile dove qui ci troviamo perché era stato visto una persona che usciva con degli attrezzi che sembra fossero imbattati di sangue fatto il controllo dentro l'abitazione segnalata abbiamo visto che è successo qualcosa di diciamo abbastanza cruento e il responsabile ce l'hanno indicato come un vicino della vittima che era ritornato e si era chiuso in casa quindi abbiamo comunque predisposto il servizio a tutela sia dei condomini e sia anche della stessa persona responsabile che diciamo si è spontaneamente consegnato e quindi non è stato fatto nessuna irruzione ripeto non c'è stato nessun atto di forza ma si è consegnato spontaneamente il personale era già predisposto in modo da poterlo prendere quindi adesso invece dobbiamo occuparci oltre che di questo anche dei rilievi di polizia scientifica per l'abitazione della vittima e questi erano i fatti più importanti che hanno caratterizzato la settimana veneziana TG Venezia Mestre termina qui vi ringrazio per essere stati insieme a noi vi auguro una buona serata e un buon inizio di settimana arrivederci un buon inizio di settimana e un buon inizio di settimana e un buon inizio di settimana e un buon inizio di settimana Grazie a tutti.